Dal 5 al 13 dicembre torna a Milano l'Artigiano in Fiera, a Fiera Milano, il grande villaggio globale dell'artigianato. Una rassegna contemporanea interamente dedicata alle arti, ai mestieri, alle culture e alle tradizioni del mondo. L'Artigiano in Fiera taglierà quest'anno un traguardo significativo. La manifestazione celebrerà la sua ventesima edizione. Stiamo parlando di un evento unico nel suo genere, la più grande fiera del mondo, che anche quest'anno aprirà le porte per tutti coloro che in modo appassionato sono interessati a conoscere la storia, l'arte, la cultura degli artigiani di tutto il mondo. Su una superficie di 310.000 metri quadrati, in 3.250 stand espositivi, i visitatori potranno apprezzare 150.000 prodotti provenienti da 112 paesi e potranno degustare le specialità gastronomiche da tutto il mondo nei 61 punti di ristoro. In Artigiano in Fiera avremo modo di incontrare le facce, i volti, i prodotti, gli odori, i sapori della cultura e dell'umanità del globo terrestre. La grande novità è rappresentata dalla crescita della fiera con nove padiglioni complessivi per una maggiore rappresentazione delle culture e delle tradizioni del mondo. Il tema di quest'anno è la vera sfida di un'economia che si sta trasformando e che trova l'artigiano non come rappresentante del passato, ma come la speranza del presente e del futuro. E qual è la speranza? È la bellezza. L'artigiano in fondo nel suo lavoro comunica questa tensione verso il bello. È questa bellezza, come diceva Dostoevsky, che salverà il mondo. È la vera sfida che l'artigiano pone oggi in questa società. La manifestazione dimostra che l'artigianato costituisce un'opportunità di sviluppo sostenibile. Tradizione, innovazione e rispetto per la natura sono alcune delle peculiarità delle imprese artigiane. Il valore più importante dei prodotti dell'artigianato è dato dalla loro unicità. Non c'è nessuna standardizzazione. Quello che noi compriamo, quello che noi degustiamo è ripetibile. E non ce n'è un altro uguale. Dall'abbigliamento ai gioielli, dall'oggettistica all'aredamento, dall'enogastronomia ai numerosi eventi, l'artigiano in fiera offre ai visitatori la possibilità di fare un vero e proprio giro del mondo in nove giorni. Un'opportunità imperdibile per acquistare regali originali e unici. L'artigiano in fiera è ogni anno il luogo ideale per gli acquisti natalizi. Nella nostra manifestazione si vede l'umanità al lavoro. L'umanità che porta dietro le proprie tradizioni, le proprie innovazioni, è questo incontro di umanità che rende l'artigiano in fiera l'evento più importante al mondo dell'artigianato. Notizie e curiosità anche sulla pagina ufficiale di Facebook e sul profilo Twitter Chioccio L'Artigiano Underscore Fiera. Per un regalo originale scegli la tua fiera. Per ulteriori informazioni visita il sito www.artigianinfiera.it